I numeri di questa iniziativa diventano di anno in anno sempre più importanti. 1.500 i ragazzi che hanno partecipato ai due concorsi lanciati dalla Fondazione Comunitaria dell'Ecchese. Oggi la premiazione è relativa a quello sui musei del nostro territorio. C'è tanto entusiasmo e gli elaborati che sono giunti sono davvero bellissimi. Difficile scegliere i migliori. Sì, abbiamo avuto un'intuizione veramente felice quando siamo partiti tre anni fa in coda all'Expo sui temi dell'alimentazione. Lo scorso anno abbiamo lanciato un secondo concorso per le scuole che riguardava i beni comuni. Quest'anno siamo andati proprio sulla valorizzazione del nostro territorio che sono i musei. Noi abbiamo un patrimonio naturalistico bellissimo, il lago, le montagne che attirano tanto turismo da tutto il mondo. Ma perché molte volte non conosciamo le ricchezze artistiche che abbiamo nel nostro ambiente. Quindi noi facendo questo concorso vogliamo creare la sensibilità fin dai giovani, fin dai bambini così, ad entrare a conoscere sempre di più di che cosa siamo padroni a casa nostra. Sono arrivati moltissimi elaborati, sono davvero tante le scuole che hanno partecipato. Quest'anno sono veramente tanti, abbiamo in totale fra i due concorsi che abbiamo lanciato quest'anno, quello sui musei e il secondo che sarà premiato il 22 sulla legalità, in ricordo di Paolo Cereda di Libera, hanno partecipato un totale di 1500 ragazzi, quindi è una popolazione. E' stato difficile scegliere gli elaborati più belli e quali criteri avete seguito e soprattutto ricordiamo che i piencitori si portano a casa a 1000 euro. Sono 1000 euro ogni classe che ha lavorato su questi lavori. Diciamo che noi abbiamo delegato a una giuria formata da amministratori, anche con dei componenti esterni, la valutazione dei singoli lavori. C'è stata molta concorrenza sicuramente perché i lavori erano tutti estremamente validi. Grazie a tutti.